L'Istituto Primario della Scuola di Nereto è coinvolto in un progetto di integrazione culturale, progetto ideato dall'Associazione Ferdinando Ranalli. Sì, è un progetto davvero importante per la tematica e per i protagonisti. L'Associazione Ranalli di Nereto ha progettato, ideato questa iniziativa che ha proposto alla Scuola Primaria di Nereto e la Preside Lanciaprima lo ha subito accolto portandolo in Consiglio d'Istituto. È stato anche finanziato dalla Fondazione Tercas. Abbiamo scelto come partner tecnico di questo progetto l'Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo Sezione Italiana del Presidente Leandro Di Donato, grazie ai quali partner abbiamo individuato dei professionisti davvero qualificanti sia per le tematiche sia per la fascia di età coinvolta nel progetto e cioè Antonella Ciaccia, Carlo Di Silvestre e Graziella Guardiani. Un progetto che si è avviato nell'ottobre 2017, è terminato ora a gennaio del 2018 ed ha avuto come tematica fondamentale l'integrazione culturale tra diverse etnie. Ormai Nereto, la Val Vibrata, ma è tutto il paese, ha questa tematica molto forte da affrontare. Abbiamo pensato che i bambini, proprio gli allievi della scuola primaria, potessero essere uno strumento per poter dimostrare come non esistono barriere culturali all'integrazione. Esiste la volontà di conoscersi, di capire, di condividere le esperienze. E questo progetto ha dimostrato che tutto ciò può accadere. I bambini sono un veicolo naturale per l'integrazione multiculturale. Abbiamo coinvolto le famiglie di almeno 6-7 etnie differenti. Credo che sia la prima volta che la scuola e le associazioni culturali del territorio si cimentano in un progetto che vede coinvolte anche le famiglie. È stata davvero una bellissima esperienza con un'efficacia sul territorio davvero importante e significativa.